ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi andremo a vedere come preparare i maltagliati con fagioli e salsiccia adesso ci avvicineremo al piano di lavoro e vedremo gli ingredienti per la preparazione della pasta ci occorreranno 140 grammi di farina 00 e 60 grammi di farina di rimacino e due uova la dose in ogni caso è sempre 100 grammi di farina un uovo per il condimento ci occorreranno dell'olio all'aglio nel mio caso dei fagioli misti ovviamente potrà essere usato il tipo di fagiolo che più si preferisce della salsiccia in questo caso mista maiale manzo un cipollotto scalogno una carota e del concentrato di pomodoro passiamo quindi alla preparazione quindi sulla spianatoia andiamo a versare la farina andiamo a fare un buco al centro in questo modo dopodiché andremo a inserire le uova al centro con l'aiuto di una forchetta andiamo a battere le uova aiutandoci con una mano cerchiamo di mantenere la forma a vulcano e continuiamo così per un po' una volta che le uova avranno iniziato a incorporare parte della farina potremmo procedere con lavorare a mano in questo modo pian piano spingiamo la farina all'interno del cratere e incorporiamo lavoreremo l'impasto finché tutta la farina non sarà completamente assorbita per raccogliere eventuali residui di farina e per pulire un poco la spianatoia possiamo adoperare un tarocco o una palettina e andiamo a incorporare bene ottenuta la nostra palla di impasto la metteremo di lato coperta a riposare per una decina di minuti nel frattempo andremo a pulire la spianatoia in quanto dopo che l'impasto avrà riposato sarà il momento di stenderlo nel frattempo prepareremo anche gli ingredienti per il condimento taglieremo la carota a pezzetti piccoli finito con la carota andremo a sbucciare e tritare il cipollotto scalogno fatto anche ciò ci sposteremo ai fornelli quindi in una padella grande andiamo a dare un paio di giri d'olio all'aglio andiamo a scaldare e andiamo a fare rosolare la cipolla nel frattempo andremo a privare le salsicce del budello nel frattempo andremo a spezzettare le salsicce quando la cipolla inizierà ad imbiondirsi aggiungeremo le carote faremo rosolare fate rosolare anche le carote andremo ad aggiungere la salsiccia andiamo a sfumare con un po' di vino bianco e pian piano continueremo la cottura andremo ad aggiungere circa un cucchiaio raso di concentrato di pomodoro andiamo a mescolare una volta fatto ciò andremo ad aprire i fagioli li andremo a privare della loro acqua e li andremo ad aggiungere dopo di che aggiungeremo un po' d'acqua circa metà latta andiamo ad aggiustare di sale e di pepe se è necessario e continuiamo la cottura aspettando che il condimento sia pronto andremo a mettere una pentola con l'acqua a questo punto andiamo a stendere la pasta andiamo a prendere l'impasto che dopo aver riposato sarà molto più morbido e malleabile andiamo a spingere al centro e pian piano andiamo a stendere l'impasto andiamo a stendere l'impasto una volta che la pasta sarà dello spessore adatto per ricavare i maltagliati l'andremo a fare riposare per 3-4 minuti in modo che si asciughi un poco dopo di che andremo a tagliarla quindi andiamo a tagliare la pasta e andiamo a creare i maltagliati ecco qua i maltagliati adesso ci sposteremo nuovamente ai fornelli appena l'acqua inizia a bollire andremo a mettere il sale andremo a cuocere i maltagliati giusto qualche minuto e saranno cotti quindi una volta a galla andiamo a scolare direttamente nel condimento accendiamo andiamo ad aggiungere qualche mestolo di acqua di cottura e andiamo a saltare fatto ciò andiamo ad impiattare impiattiamo dopodichè andremo a mettere un filo di olio d'oliva crudo e un pizzico di pepe macinato fresco ed ecco a voi i maltagliati salsiccia e fagioli bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a condividere i video con i vostri amici noi ci diamo appuntamento alla prossima ricetta ciao 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 ciao